Negli ultimi due anni 25 milioni per l'ex-Ulss 15 e per l'ospedale di Cittadella negli ultimi due anni oltre 9 milioni e mezzo di euro. Per il futuro stiamo già approntando un investimento di oltre 25 milioni di euro solo per Cittadella per rifare tutta l'area delle adeggenze mediche. È una sanità che si conferma d'eccellenza e all'avanguardia. Zaia, Cittadella per l'inaugurazione di una serie di nuove strumentazioni dal valore complessivo di oltre 525 mila euro, lo sottolinea ricordando le cifre investite e soprattutto i nuovi finanziamenti in arrivo che cambieranno l'aspetto della sanità in Alta Padovana. Il Presidente ha dato l'investitura a un grande progetto che noi abbiamo proposto che è quello di rifare completamente tutte le adeggenze dell'area medica. Significa abbattere le cosiddette casette come si chiama qua in ospedale e costruire un nuovo plesso ultramoderno per un costo complessivo, un investimento complessivo di 28 milioni di euro. L'inaugurazione di oggi ha riguardato strumentazioni per il centro di procreazione medicalmente assistita, una colonna laparoscopica 3D per la chirurgia generale, sistemi di telemetria per il monitoraggio cardiologico, dotazioni ecografiche per la diagnostica in senologia. A Padova intanto la concentrazione è puntata sul nuovo ospedale, l'ITAR del progetto prosegue. Per noi sì, attendiamo che il Comune di Padova ci dia una delibera nella quale ci trasferisce l'area.